Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, inizio della nuova settimana sempre dominata dall'anticiclone delle Azzorre con caldo anomalo nella giornata di lunedì su gran parte del nord avremo picchi fino a 26 gradi. Ma attenzione perché nel corso di martedì abbiamo questo fronte freddo legato a una vasta circolazione depressionale che attiva come vedete sulla Scandinavia potrebbe transitare sulle Alpi orientali verso i Balcani e quindi portare una moderata instabilità anche su parte del nord est sull'Emilia e la dorsale appenninica avremo qualche rovescio temporale sparso e il tutto sarà accompagnato anche da un sensibile caldo delle temperature soprattutto ad est. Vi invito allora a seguire l'importante evoluzione del tempo insieme a noi sull'app di Trebi Meteo.